La Fortezza Borbonica si conferma anche per il 2015 il monumento più visitato d'Abruzzo, con oltre 45.000 ingressi. È una cosa che chiaramente ci riempie d'orgoglio e ci fa capire che il percorso è quello giusto. Abbiamo raggiunto l'anno scorso un più 10%, abbiamo aggiunto anche quest'anno un più 10% rispetto all'anno precedente. I numeri ci confortano che la strada è quella giusta, è chiaro che c'è ancora molto e tanto da fare. Da ciò che vediamo dalle recensioni dei fruitori della Fortezza, sono sempre di più quelli contenti della visita, del trattamento che ricevono, di quello che vedono, di come è conservata la Fortezza. Questi sono i dati di TripAdvisor che sono liberi e fruibili a tutti. Un aumento importante c'è stato quest'anno di recensioni estremamente positive, mi sento di dire. E nel 2016 la Fortezza di Civitella punta a una strategia promozionale globale attraverso il Virtual Tour in 3D. Questo è un nuovo strumento che viene messo a disposizione dei fruitori della Fortezza, ma non solo, anche di visitatori in remoto, cioè persone che comunque si trovano in una situazione diversa da Civitella, che possono comunque godere delle bellezze della Fortezza visionando, navigando attraverso questo nuovo Virtual Tour. Una chicca, stiamo predisponendo anche una visualizzazione del Virtual Tour in 3D attraverso l'utilizzo dei VR Glasses, sono degli occhialini che vengono messi a disposizione, si possono comprare occhialini a un costo molto contenuto. Con l'utilizzo del proprio smartphone, lo smartphone si inserisce all'interno di questo speciale occhialino, si può vedere, navigare la Fortezza in 3D.